Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Outdoor Training Live. L'allenamento che andremo a fare oggi sarà un allenamento composto da 10 esercizi, 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa, seguito alla fine dei 10 esercizi da 8 minuti di corsa, per poi ripetere nuovamente altri 10 esercizi. Quindi avremo 10 esercizi, 8 minuti di corsa, 10 esercizi. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Come primo esercizio avremo un box jump, quindi si salta, chi non ce la fa, ovviamente avete bisogno di una panchina, chi non ce la fa saltare mi raccomando fatevi uno step. Secondo esercizio piegamenti braccia, si può fare anche la variante sullo step. Poi abbiamo lo step up destro, quindi la gamba destra rimane su, l'altra gamba va a fare il movimento dello step up. Poi ovviamente avremo il cambio gamba nell'esercizio successivo, come quinto esercizio avremo i tricipiti a sedia, i dip, chiamati anche. Poi abbiamo il sesto esercizio a fondo bulgaro, ovviamente prima una gamba e poi la serie successiva avremo il cambio gamba. Poi andiamo avanti, siamo con i piegamenti braccia con l'estensione in avanti, quindi piego e stendo e vado a ricercare il piegamento braccia. Poi siamo quasi addirittura di arrivo, abbiamo il plank spider e andremo poi a chiudere con i burpees. Quindi plank spider e poi ultimo esercizio saranno i burpees. Finito questo 10 esercizi, mi raccomando 8 minuti di corsa e poi andremo a ripetere un'altra volta i nostri 10 esercizi. 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa, mi raccomando iniziate questo lavoro da caldi, non iniziatelo a farvelo da freddo perché vi fate male sicuramente. Altra cosa importante, ricordatevi di andarvi poi a scaricare qua sotto la traccia audio cliccato sul link nella descrizione. Buon allenamento a tutti, Outdoor Training Live!